La figlia non valeva un granché. Il padre decise di indirizzare Manuela verso un lavoro. La figlia non valeva un granché come farfalla della ginnastica artistica. Si allenava poco e detestava la fatica, tendeva ad ingrassare. Dal punto di vista del divenire, sembrava che le giornate si snodassero nella sua vita come un fiumiciattolo tortuoso. Ma dal punto di vista della sua coscienza, Manuela progrediva, si vedeva vivere, si analizzava di continuo al di fuori di sé e non aderiva mai pienamente a ciò che faceva. Dopo che il padre si convinse che la figlia era una fallita, perché non era all'altezza di nessun compito, la mandò in una scuola privata per farle prendere il diploma di ragioniera, che avrebbe preso comunque perché il padre pagava rette altissime. In una pausa estiva mandò Manuela dal cugino, un agronomo che affidò alla ragazza 50 pecore. Era il lavoro più facile di tutti. Non c'era che da rimanere vicino alle pecore e Manuela le perse. Perse 20 pecore che ritrovò grazie all'aiuto del cugino. Le pecore si erano accoccolate all'ombra in un burrone asciutto. Per la media evoluzione Manuela era una fallita. Eppure quell'incidente liberò in lei una nuova comprensione. Manuela si convinse che le pecore le erano sfuggite perché le aveva custodite con la sua natura sognante, che si era identificata in un pastore, che forse era come lei, un osservatore esterno della propria vita. Questo era il senso dell'attesa accanto alle pecore. E mentre evadeva così dentro di lei, le pecore le erano sfuggite. Manuela era una fallita perché aveva conosciuto quella che per lei era una verità? Oppure avere una natura sognante significa fare l'esperienza che la propria natura comporta e quindi non si è mai defalliti? Il giorno dopo le pecore, l'agronomo rionì Manuela, la moglie, la figlia e i suoi due dipendenti e disse «Anche se ci ha fatto fuggire le pecore, io ringrazio Manuela perché mi ha fatto capire che anche lei, piccola bellezza estasiata dallo spirito, è una frazione dell'assoluto che ha ragione di esistere, esattamente come noi che siamo ancora estasiati dalla natura».